I ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato a questa elezione, una elezione come sapete di secondo livello che coinvolge i consiglieri e gli amministratori comunali, quindi comunque una competizione demografica è un'espressione dei territori che ha dato un risultato piuttosto paritetico rispetto al dipolarismo politico quindi nella rappresentanza del Consiglio abbiamo 5 membri riconducibili in un'area di centro-vestra e 5 di centro-sinistra e questo in certa maniera cercherà in qualche modo di dare, di ricalcare quella che è stata la volontà degli elettori o del, se la possiamo chiamare, dell'equilibrio politico. Quindi questa gestione, benché oramai si sia capito e diventata transitora fino al rinnovo della modalità di elezione del Presidente di primo livello sarà quantomeno aperta a tutte le forze politiche e a tutti coloro che vorranno contribuire nel buon risultato dell'attività amministrativa provinciale. Però così facendo abbiamo deciso di fare una ripartizione rispetto alle deleghe di chi propositivamente, anche per questo ringrazio i rappresentanti delle forze politiche in particolare i seretari di Azione e del PD che hanno contribuito effettivamente a questo risultato abbiamo deciso di ripartire le deleghe rispetto ai primi 5 consiglieri e a una restante parte riservate poi a forza del territorio. A consigliere Andrea Core va la delega di politiche dell'ambiente, strategie di promozione e rilancio dei territori, promozione di eventi culturali e iniziative di compartecipazione, rapporti con la regione al pronuncio più politiche del lavoro. Al consigliere Core va anche la vicepresidenza. Al consigliere Dercole abbiamo assegnato la rete di area provinciale e i lavori pubblici. Al consigliere Bartolini i rapporti con il comune capoluogo e relazioni con gli enti locali, politiche di integrazione sociale. Più manutenzione scolastica, politiche scolastiche, istruzione, parchi e riserve. Al consigliere Lattanzi, bilancio personale e il terzo nucleo della viabilità, che è in particolare il nucleo della parte nord, nord-destra della provincia di Teramo. Al consigliere Pavone, consigliere esperto, già sindaco della comune di Roseto, esperto in una gestione degli enti pubblici per patrimonio pubblico, è stata assegnata l'importante delega del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza e l'edilizia scolastica, quindi tutti i progetti strategici che riguarderanno questa provincia. Invece rimandono come proposta politica alla forza del territorio una serie di deleghe che poi verranno discusse anche durante la fase consigliare, che saranno le deleghe delle politiche di tutela e promozione delle pare opportunità, le politiche di tutela e promozione e rilancio delle realtà montane, le relazioni interistituzionali finalizzate a progetti di collaborazione con realtà territoriali estere, i patti di amicizie, i gemellaggi e i patti di solidarietà, le politiche del mare, la pianificazione urbanistica e la tutela e valorizzazione del patrimonio dell'ente. Questa è una parte discusa con il gruppo della forza del territorio. Rinnovo ringraziamenti a tutti i consiglieri, rinnovo ringraziamenti ai gruppi politici, rinnovo ringraziamenti a chi ha preparato lo stato di transizione rispetto a questa nuova fase di gestione di presidenza e consiglio rinnovato e siamo a disposizione per eventuali alteri di domande.